... ... ... Carra era effettivamente taglia dai 6.75 mentre dalla nostra postazione che è dalla parte opposta sembrava che il tiro fosse... ...Mancin, Gorrieri e Maccaferri vediamo quanto Napoli ora per forza di cose dovrà cercare di stringere in difesa e oscurare il cielo alla squadra imolese va a cercare gloria all'interno del pitturato non fiscano gli arbitri recupera rimbazzo Imola spinge Yang andrà fino in fondo difficile ma poi il tiro da tre punti aperto per Harris polveri bagnate per Trieste dai 6.75 ne approfitta Imola ne approfitta Yang che va da tre non è uno dei giovani locali ma è il reggiano ad andare a segno e a in qualche modo togliere il coperchio dal canestro quel coperchio che è una tripla aperta da parte di Marco Carra che piedi per terra e mortifero sette punti secondi con la maglia numero 17 Yang viene raddoppiato ancora una volta il giocatore che non ti aspetti questo Alessandro Mastrangelo mette una tripla dall'angolo ci prova anche anche di Liegro gravato di tre penalità Yang va fuori da Poletti ecco Yang il miglior marcatore dell'incontro andrà lui a 5 secondi dalla fine va Yang la tripla da 7 metri di Yang che segna con la tripla ecco Yang ovviamente lui il go to guy della serata 8 secondi per il tiro Imola vediamo quale sarà l'idea di Yang si butta dentro poi scabia ottimi bene tripla aperta di Yang benissimo 26 di Yang tipo con Bruttini, Dillard Cutolo Jackson e Martinoni molto concentrati Casale in costa di ripartita anche molta pressione seguito dalla rimessa 9 punti di vantaggio per Casale sfiorate la doppia cifra di vantaggio in 3 minuti è quasi un record con Imola che prova ora a accorciare Yang sfida proprio Dillard Yang l'esitazione in media anzi sotto media per quello che riguarda i punti subiti da Casale Casale è riuscita nel duplice obiettivo di aumentare la propria classifica nei media punti segnati e migliorare ancora in panchina da sottolineare anche il rimbalzo offensivo poco fa di Luca Lektader e andiamo a rivedere il canale sta mancando un pochino di esplosività in diverse situazioni ad Adapascolo anche in questo caso la conclusione da sotto con contatto a sua discolpa ed errore mentre 7 punti per la guardia da Siracius vorrei arrivare alla schiacciata di Baldi Rossi non manca molto mancano da si riparte sul 24 a 20 ancora Alessandro Maccaferri in cabina di regia ha fatto vedere buone cose nel minuto e mezzo in cui è rimasto in campo come ha fatto vedere Otti è ancora in parità l'Aquila ha tentato un paio di volte l'allungo ma per ora non le è riuscito e quindi si continua a giocare punto a punto quando siamo Manchin fatica a servire Young e questa volta l'uno contro uno Young contro Krish Passi può giocarsela con tutta calma Imola con i suoi due americani questa volta è Young che va a chiamare il blocco di Poletti e poi Poletti che si porta sotto Pascolo che non sa se tenere Mitch decisamente un altro piglio da quando la squadra è rientrata in campo era stato un pochino troppo pigro nell'iniziare l'uno contro uno spalle a canestro e aveva esposto il cuoio al difensore però la palla è finita nelle mani poi magari li ha esauriti vorrei aver detto una bestialità e ci avrà ragione lui sicuramente attenzione al servizio della squadra ospite 63 a 56 a sistema mai poster di Michael Jordan quando fa quel movimento lì si manca la presa e qualche centimetro ancora per arrivare la sua però lo stile è quello e Brandon Trish a 15 nella parte opposta continua lo show l'arbitro ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto la parte bassa del campo da qui non si vede molto attenzione è caduto pesantemente Molinaro niente di grave c'è da costruire e tanto in questa stagione con un gruppo del genere le bellissime Curtis Young c'è esaltare le caratteristiche a esaltare le caratteristiche del giocatore Young va fino in fondo qui l'Harris che quest'oggi nel cuore dell'area romagnola è davvero un fattore dodicesimo punto per Harris con ottimo asso quota 12 47 a 36 per Trieste che continua con la difesa individuale Carra limita bene la penetrazione di Iannone Cortesi Young per Turino nella vittoria sofferta contro Forlì che ha dato tra l'altro la vetta a Turino di sblocarsi anche se nelle ultime due partite non se l'è cavata ha fatto male pareggio dunque per Turino che poi si è un gare attenzione più 3 10 a 7 per l'Andrea Costa Young contro Mancinelli lo scarico ancora Iannone ancora non calca il perché Esposito tanto va a sbagliarle Turino in una mena più 3 20 secondi 18 adesso per Imola ma ancora 22 per il primo quarto dunque ancora un possesso comunque vada per Turino dal posto basso bello il taglio di Young che poi è piccolo di questo campionato blocco di Poletti per Young adesso difende bene però Wojciechowski un mismatch si scalda vecchi in panchina i ragazzi stanno facendo probabilmente la miglior partita negli ultimi 4 mesi ancora c'è voluta una prodessa del capitano 6 minuti e 44 sul cronometro 26 pari Young da 3 punti attenzione e calche temevamo e allora Maccaferri per Young mentre rimane in panca Niles bello la stitana dei tempi d'oro non potrebbe essere altrimenti non potrebbe essere non potrebbe essere non potrebbe essere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.